Ave Maria, Ave Maria Celebriamo quest'oggi un connubio molto significativo, la dedicazione della Basilica del Santo Salvatore dei Santi Giovanni Battista e Giovanni Evangelista in Roma e il pellegrinaggio mariano mensile, il rapporto tra la Chiesa e Maria. Guardando a Maria noi possiamo gettare una luce profonda sul mistero della Chiesa, ma viceversa guardando alla Chiesa possiamo cogliere, intuire la bellezza, la grandezza di Maria. Ecco, mi pare che questa giornata ci illustri davvero questo rapporto. Appartenere alla Chiesa è un grande privilegio ed è un grande dono. Così come essere figli di Maria è un grande privilegio ed è un grande dono. E allora davvero l'invito è quello che ci fa San Paolo. Un invito, un monito, ma anche un augurio. Quello di edificare la Chiesa ma di essere attenti a come costruiamo. Perché ogni nostra azione, ogni nostra azione che noi poniamo, che sia evidente o che sia nascosta, edifica o distrugge. Dal punto di vista morale non c'è qualcosa di neutrale. O edifichiamo o distruggiamo. E allora davvero il Signore ci dia modo di edificare la Chiesa. Della nostra povertà, nei nostri limiti. Di essere però testimoni dell'Eterno, veri discepoli e figli della Vergine Maria.